ben tornati alla rubrica di cinema del comune di cavaria compremezzo oggi ringrazio stefano il bomber che mi chiede di parlare di un film del 1997 arrivato in italia solo nel 99 scritto e diretto da vincenzo natali un regista canadese di chiare origini italiane e stiamo parlando di the cube the cube è la storia di questi personaggi che di punto in bianco si risvegliano in una sorta di prigione cubo divisa in stanze appunto cubiche da cui il titolo del film e si troveranno a dover unire le forze per cercare una via di fuga passando attraverso tutte queste stanze cubiche all'interno delle quali si celano dei tranelli mortali basta questa è la storia di più non vi dico allora il film è un film sicuramente molto interessante è la dimostrazione di come per fare del buon cinema siano sufficienti solo tre cose una buona idea una buona scrittura e una buona regia basta non servono fanta milione un film veramente girato con penso un budget da cortometraggio perché io poi sono andato a guardarmi delle foto del backstage il set è tutto un praticabile cubico diviso in quattro scompartimenti cubici con delle botole all'interno delle quali il regista fa muovere i personaggi muove la macchina da presa cambia le luci e fa sembrare questo spazio infinito perché questo caratteristica di questo cubo è proprio quella di sembrare infinito di non di non avere un'uscita ma come ci riesce dicevo con una regia fatta benissimo ritmi giusti tempi perfetti inquadrature studiate nei minimi dettagli perché poi è tutto girato in degli spazi ridotti claustrofobici quindi lui con i movimenti di macchina riesce veramente a rendere questo senso di claustrofobia che ci accompagna per tutto il film e ma soprattutto con una scrittura eccellente questi personaggi sono dei personaggi che sembrano essere in un modo a mano a mano che la storia va avanti ci accorgeremo di come in realtà niente come sembra diventeranno tutto il contrario di tutto e non si riesce mai a capire se sia dovuto solo alla situazione di forte stress poi si capirà man mano a mano che ci si avvicina al finale però è bravissimo a tenere alta la tensione a non far capire se sia solo dovuto allo stress o se in realtà veramente questi personaggi non sono quello che sembravano all'inizio quindi c'è tutta questa evoluzione di questi personaggi che è incredibile la scrittura è veramente veramente efficace qui siamo davanti come dicevo a un grandissimo esempio di come per fare un buon cinema serva serva veramente poco e tanto allo stesso tempo poco in termini economici tanto in termini di competenza di capacità di conoscenza del mezzo cinematografico che è fatto di tante cose perché la buona idea se poi non è supportata da una buona scrittura rischia di andare in niente la buona idea e la buona scrittura se non sono supportate da un regista capace rischiano di essere un fallimento qui invece abbiamo tutti i tasselli che si incastrano perfettamente e questo è riuscito a girare un film in maniera semplicissima ma veramente 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 efficace è un film che andrebbe guardata andrebbe preso un po come come risposta quando ci si chiede come mai il cinema italiano in crisi il cinema italiano è in crisi perché si investono ancora milioni di euro per tenere in vita cadaveri come i vari vanzine i vari christian desiche vari massimo boldi e non si non si punta magari invece su giovani di talento che ci sono e che sarebbero in grado di realizzare delle pellicole anche di respiro molto più internazionale senza bisogno appunto di fantamilioni questo perché perché sono capaci sanno scrivere sanno girare sanno scegliere gli attori invece in italia si si continua a preferire finanziare progetti come quelli di fabio volo che dopo aver come dire defecato su tutto il mondo della letteratura gli è stato permesso di defecare anche su tutto il mondo della recitazione e ora pare gli abbiano dato un cadere per spargere le sue feci anche sul mondo della regia quando invece poi oltro oceano arrivano cose come questo the cube che sono fatte da un regista praticamente sconosciuto veramente di talento e che ci dimostra ancora una volta che i soldi fanno la felicità ma nel cinema non sono tutto perché si può fare dell'ottimo cinema con pochissimi mezzi l'importante è sapere conoscere quello che si sta facendo e questo the cube è un esempio di come di come si può lavorare al cinema senza avere budget stellari quindi ve lo consiglio guardatelo e io vi do appuntamento alla prossima settimana invitandovi ancora come ha fatto stefano se avete qualche film di cui volete sentire parlare a farmelo sapere ciao